Non smette mai di stupire Michael Jackson, dopo l'annuncio del suo prossimo ritorno sulla scena musicale, ora salta fuori che il re del pop vuole adottare un bimbo prima della serie di concerti previsti in luglio a Londra. A preferirlo sono i giornali britannici, spiegando che i collaboratori della Star avrebbero già contattato un'agenzia di adozioni. Per questo il 50enne cantante arriverà con un anticipo di tre settimane rispetto alle date degli spettacoli previste nella capitata inglese. Ma non ha detto se si tratterà di un maschio o di una femmina, riferisce il Sunday Express citando fonti vicine all'artista. Jackson ha già tre figli, Prince Michael 12 anni, Paris 11 anni, Prince Michael II di 7 anni. In passato è stato accusato di aver abusato di minori, i suoi spettacoli alla O2 Arena di Londra, che ha una capienza di 20.000 posti, si inizieranno l'8 luglio. In totale sono 50 i concerti in programma del re del pop che torna sul parco dopo 12 anni di assenza.